Un italiano su tre vive da solo. 7 milioni e 700 mila persone che ogni giorno arrivano a casa, mettono sul pigiamone, si sdraiano sul divano e mangiano la prima cosa che trovano in frigo. Bello essere single, puoi fare quello che vuoi quando vuoi. Poi però delle volte succede che vorresti tantissimo condividere casa con qualcuno, tipo quando non riesci ad aprire un barattolo o a chiudere un vestito che ha la cerniera dietro. Ecco allora dei semplici consigli per semplificare la vita di chi è single. Mettersi lo smalto non è una cosa facile, soprattutto quando il barattolo è ormai quasi alla fine, ma è sufficiente prendere un mollettone per far sì che tutto risulti più facile. I barattoli sotto vuoto non si aprono proprio perché non contengono aria all'interno e quindi è sufficiente prendere un cucchiaino, far passare un po' d'aria facendo leva e il barattolo si aprirà. Se invece avete stretto troppo un barattolo, apritelo con del nastro adesivo. Non sapete come allacciare il vestito che ha la cerniera lampo sulla schiena? Non disperate, prendete una spilla da balia e un laccio da scarpe e poi tirate su. Non riuscite ad allacciare il bracciale che fa pandan con il vostro vestito? No. Prendete dello scotch e attaccate un'estremità al vostro polso. E attaccate una parte al vostro polso. Al vostro polso. Ma poi perché mettere il bracciale?